Sirena digitale Una installazione olografica che si illumina, interagisce e canta i classici della canzone napoletana in lingua originale, in inglese e in cinese mandarino, nella sala sirena di Castel dell'Ovo. È un progetto di ricerca sul suono e gli ologrammi per trovare nuove tecnologie per la valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e musicale. L'ologramma, l'interazione multisensoriale per consentire alla musica napoletana anche di internazionalizzarsi e di essere conosciuta in Cina con la traduzione in cinese o nei paesi anglofoni. Le possibilità sono tante perché riteniamo che l'olografia e questo tipo di innovazione tecnologica possa essere utile in tanti contesti, anche nel teatro di innovazione, negli spettacoli interattivi. La sirena partenope accoglierà dunque i visitatori sull'isolotto di Megaride, proprio dove il mito la colloca nel momento in cui si trasformò in divinità e corpo della città di Napoli. L'accessibilità è consentita sia in modalità di installazione museale con un'interfaccia gestuale aptica, un totem olografico, sia in modalità portabile tramite un'app per dispositivi mobili. Questo è un progetto che è stato portato avanti dall'Università del CNR, che mette un po' insieme innovazione e tradizione, proprio per valorizzare anche il senso di una cultura che è capace di fondare le sue radici nella storia, ma che guarda molto all'utilizzo delle nuove tecnologie. È un modo molto innovativo, di una fruizione che è molto rivolta ai giovani, ma che garantisce anche una sua attrattività per il mondo dei turisti e questa è una chiave di lettura di una Napoli che si trasforma e che guarda il suo futuro partendo dalle sue competenze e dalle sue tecnologie, senza però dimenticare quello che è il suo grande patrimonio identitario e di tradizione.